Cari amici, benvenuti sul mio canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Fai bene ciò che fai. Spero dopo la condividerete a tutti i vostri contatti. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo Fai bene ciò che fai perché nell'era della velocità l'uomo fa molte cose senza capirne la vera entità. A volte siamo presi da questa velocità di fare 50 cose contemporaneamente per fare molte cose e consegnare lavori, cose, roba varia. Però non le facciamo con quella tranquillità tale da vivere con passione e forza e intensità. Quelle azioni che stiamo vivendo. Come si facevano tempo fa, che si facevano le azioni con calma e si prendeva tutto il tempo a disposizione affinché si possa fare qualcosa bene e di una certa qualità. Ora si pensa alla quantità. Cioè più cose facciamo senza fermarci più siamo bravi. A volte non si dorme la notte perché dobbiamo realizzare cose che ci servono 24-40 ore al giorno. Invece dovremmo fermarci. Fare le cose una alla volta. Magari fare un qualcosa in meno. Però quelle cose che abbiamo realizzato, farle con più calma, meditando, chiedendosi il valore della loro utilità, come migliorare quel lavoro per la prossima volta. Perché il tempo di realizzazione a volte ci dà spazio, ci fa pensare e dire ma la prossima volta lo faccio meglio, posso sistemare meglio questo cavillo, questa cosa e può riuscire meglio di oggi il lavoro, domani. Bisogna fare bene ciò che facciamo con saggio e concentrazione. Ecco perché prendere il tempo per fare le cose ci fa aiutare a riflettere, pensare e tale da poter capire meglio la situazione, rilassarci, evitando molti errori. Perché la velocità è vero che ci fa fare le cose molto rapidamente però ci porta a fare tanti errori perché abbiamo meno tempo per riflettere. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo Fai bene ciò che fai. Nell'era della velocità, l'uomo fa più cose senza capirne la vera entità e con risultati privi di vive essenze. Invece dovrebbe fermarsi fare le cose una alla volta meditandole, chiedendosi la vera loro utilità. Fai bene ciò che fai con saggia concentrazione perché sai che ti rilasserai e ti capiterà lo sbaglio per giusto errore. Bisogna fare le cose una alla volta seriamente per vivere le buone atmosfere in maniera solenne suavemente. Grazie, spero la condividerete. Arrivederci